Per la bilancia chi ha investito in nuove imprese non deve preoccuparsi, Marte nel segno ha creato problemi fisici, ma nella prima parte del mese chi mi segue giornalmente sa che ho sempre detto vedrete che dopo il 14 ci sarà una risalita. Bene, il 14 è passato, quindi spero che ci sia un momento di maggiore enfasi, positività. Conti aperti con un ex, meglio voltare pagina.